Un libro introspettivo, una narrazione convolgente, intima e un'ambientazione fuori dagli schemi, a tratti tenera e commovente. Si chiamava Elliot Mann, è un libro tutto trapanese e per i trapanesi che ci proiettano un mondo, quello del vecchio manicomio di Trapani, così lontano dallo scorrere della vita quotidiana e della nostra memoria. Il libro nasce da un sogno, un sogno fatto in una notte d'autunno di tanti tanti anni fa. L'ambientazione è dovuta solo ed esclusivamente perché il libro è dedicato a papà e papà era un infermiere del manicomio. Quindi ho voluto ricordare papà e ho voluto ricordare tutti i ricoverati del manicomio, perché papà mai nella vita ha chiamato questi signori con altri termini. Lui li chiamava ricoverati, quindi non ho fatto altro che ricordare la volontà di papà. Il libro si articola su molti personaggi che intrecciano le loro storie fra di loro. Ripeto, tutto nasce da un sogno. Il sogno era un bambino che andava a scuola dentro uno dei padiglioni abbandonati del manicomio di Trapani. Quel bambino probabilmente ero io. Dopodiché ho voluto raccontare la storia di molti personaggi che effettivamente ho vissuto, molti ricoverati che ho conosciuto e soprattutto la storia di Pippineggio, che era uno dei pochissimi che aveva la libertà di girare libero per tutto il manicomio e l'unico fastidio che dava alle persone che incontrava era quello di chiedere una sigaretta. Ho portato lui come esempio per ricordare tutti gli altri.